Oggi andremo a vedere come funzionano le formule cubo che ci permettono di realizzare delle formule sulle celle di Excel estraendo dei dati dal modello di Power Pivot quindi sì, non sono formule classiche di Excel che ci permette di interagire tra le celle e i fogli del foglio elettronico ma ci permettono di interagire proprio con il modello di Power Pivot che è esattamente quello che fa la Pivot in sé infatti se vediamo qui questa Pivot è una Pivot bidimensionale se faccio un clic destro e vado giù, modifica il linko campi sto prendendo informazioni da due tabelle perché nel modello sono relazionate tra loro così evitiamo tutti i cerchi verticali e comunicano tra loro in automatico posso usare sia i campi di qua che i campi di qua e posso fare tutti i filtri e le logiche che voglio qui nella FACTA ho creato poi delle misure se non sapete cosa sono comunque fatevi un giro sul mio canale e trovate tantissimi video a riguardo ho creato il totale della quantità, questo è DAX dalle vendite, sconti, numero di transazioni, vendite elettroniche, prodotti e quantità il modello è sempre molto molto e ancora molto più efficiente di qualsiasi operazione sviluppo che possiamo fare sul foglio elettronico standard si parla di un 30-40 volte più veloce quando andiamo ad eseguire le cose la Pivot risulterà molto più rapida ovviamente se avete pochi dati non si nota la differenza se cominciate ad avere un po' di dati noterete una grandissima differenza su quanto lavora veloce l'Excel e quanto rimane stabile rispetto a che utilizzare i classici sistemi dell'Excel tradizionali questa funzionalità che cosa fa? oltre a permetterci di lavorare il computer bello e creare le Pivot ci permette di creare delle formule cubo, quelle che dicevamo che ci permettono di prendere il valore della Pivot e spostarlo dove vogliamo questa cosa è fortissima perché ci permette di creare un risultato dinamico e porlo sulla nostra grafica, sul nostro design, sul nostro template, sul nostro report ovunque noi vogliamo e come vogliamo farlo apparire non siamo legati strettamente alla costruzione di una Pivot quindi oggi vedremo due modi per andare a realizzare le formule cubo il primo è semplice perché andremo semplicemente a prendere questa Pivot e la convertiremo in formule e è qui il risultato il secondo è più complesso perché andremo a scrivere noi stessi la formula cubo e renderemo il risultato della formula cubo che è questo qui dinamico, adesso lo sposto sotto con i parametri che vado ad indicare qui ad esempio qui vedete c'è un 10 se qui vengo e ci metto ad esempio un 18 cambierà il risultato cosa che non funziona se lo facciamo con l'altro sistema o meglio funziona ma non con tutti i parametri adesso vediamo meglio nel dettaglio allora la soluzione 1 è semplicemente creare la Pivot di nostro piacimento come più piace a noi insomma copiarla ad esempio e incollarla così abbiamo sempre l'originale per convertirla in formule è molto semplice analisi di tabella Pivot andiamo qui su strumenti OLAP e schiacciamo sul bottone converti formule qui ci dà un messaggio perché vede dei filtri di pagina qua su se c'è più elementi non cliccate qui perché non può convertirli in formule quindi in questo caso io lo tolgo e faccio converti se aveste product name con un solo valore selezionato potete convertire anche quella cella, quel campo in formule però se ci sono più elementi non si può fare quindi ora faccio converti e vedete che ho ottenuto il mio risultato come fa la formula a dare un risultato differente su ogni cella? perché la Pivot concettualmente che cosa fa? su ogni singola cella applica dei filtri che sono basati su quello che la circonda quindi in questo caso questo 5539 è basato sulla misura del totale delle vendite che è quella che ho inserito nel mio riquadro valori che è quella misura DAX che ho creato nel modello e qui che cosa fa? prende la misura e la filtra per cosa? perché la misura è un aggregato da un risultato aggregato totale vendite sono 91.611 su tutta la mia tabella perché a questo livello che la sto vedendo in Power Pivot non c'è nessun filtro applicato quindi lui semplicemente mi fa la somma della colonna perché questa è la funzionalità che gli ho dato in questa funzione se guardiamo prodotti quantità ha una logica un po' differente più complicata quindi fa dei ragionamenti maggiori sul dato al di là di questo che cosa succede? lui qui non mi dà il 91.000 perché? perché lui guarda quello che lo contorna se andiamo qui è più semplice facciamo un F2 lui guarda filtrami il software ok? poi mi filtri mi prendi la misura totale vendite mi fai filtri sul product name che sono dentro qua mi fai filtri sull'electronics quindi in realtà questi 91.000 che abbiamo qui come totali non sono altro che dei filtri che vengono fatti in base agli attributi che troviamo intorno ad essa alla cella è un po' come battaglia navale quindi qui alla fine la formula cubo come funziona? quando l'abbiamo convertita lui scrive valore.cubo che è la classica formula cubo dove ce ne sono altre per andare a iniziare una formula cubo classica is workbook data model non è altro che il nome del modello dati sul quale stiamo agendo quindi se andiamo sul menu dati query e connessioni qui vediamo il nome vedete is workbook data model questo è il nostro modello qui ora ne vediamo di più perché il modello di dati che ho creato su un partito da Excel ho creato le due tabelline le ho importate in power pivot e ha creato queste due connessioni però poi il modello in sé c'è scritto anche qua comunque il modello dati è questo e tendenzialmente Excel lo chiama sempre allo stesso modo a meno che non andate a personalizzarla quindi la funzione primo parametro valore cubo this workbook data model gli diamo il modello sul quale dobbiamo agire e poi gli diamo i parametri e la misura che vogliamo andare ad utilizzare una misura n parametri in questo caso la 12 è proprio la nostra misura quindi sta prendendo la totale vendita se lo sottolineo mi fa vedere anche che cos'è questo parametro vedete che mi dice che è totale vendita se sottolineo il B10 mi dice che è più elementi che è product name se sottolineo la 14 mi dirà che è elettronix ok che è il valore che sta estraendo dalla cella in questo caso cosa succede se prendo Chase perché poi anche Chase ha una sua formula cubo perché sto tirando fuori l'attributo dal mio modello non è che posso lavorare solo con le misure posso volendo anche lavorare con gli attributi in estrazione però l'attributo generalmente è statico invece la misura cambia in base l'attributo che gli sto passando al filtro che gli sto passando quindi lui qua usa membro cubo si collega sempre a questo modello di dati e dalla dim category punto sub category tabella nome campo mi tiro fuori il valore Chase ok quindi questo è quello che sta facendo questa cosa se io prendo Chase faccio un copia e incolla vedete che qui cambia il valore quindi in un certo senso posso utilizzare anche i parametri dinamici anche con la soluzione semplice io prendo questo e faccio un control c e poi faccio converti in valore io ho fatto sparire la formula verso un modello ho dato semplicemente un parametro però vedete che funziona ugualmente solo se si tratta di testo se facciamo questa operazione un po' di control z se facciamo questa operazione dove ci sono le date ok questa cosa qua control c control b vedete che anche qui funziona ma se io vengo qua perché poi no cosa succede se vengo di qua e ci scrivo Chase ok comunque funziona lo scritto a mano in questo caso io ho fatto un copia e incolla perché appunto c'è il membro cubo che mi tira fuori l'informazione se io ora vado qui e ci metto no guarda che voglio 13 0 1 2 0 25 ecco che mi da ND la formula Q non funziona perché non riesce a convertire questo valore un trucchetto se faccio un clic destro e facciamo formato cell e mettiamo data vedete che qui è già impostato in data però non lo riesce a riconoscere ok quindi con l'automatico non si riesce a fare proprio tutto bisogna capire un attimino come funziona questa formula quindi cosa facciamo andiamo a fare la soluzione un po' più complicata quindi cosa succede quando siete qua ctrl z ctrl x ctrl v vi spostate comunque la cella dove volete e già avete ottenuto un grandissimo risultato e poi questi parametri anche li potete spostare ovviamente la cella poi nel momento in cui vedete la formula se la spostate con ctrl x ctrl v si aggiorna la formula valore cubo segue comunque dove è andata a spostare la cella ok con ctrl x ctrl v è un trucchetto per comunque mantenere il funzionamento delle celle e già qui otteniamo un grosso risultato ora per fare un passo in più e per poter fare più filtri perché ad esempio qui c'è un più elementi se io devo andare qua dovrei utilizzare questo campo che è manuale con il filtro e filtrarli manualmente così ma se io li voglio gestire esternamente perché magari il valore che compare qui deve essere dinamico gestito da un evento in base al numero che compare e qui ho più elementi quindi non dovrei gestire più di uno e qua facciamo tutto quanto ora qua è questo allora adesso me lo sposto un attimino sotto questa qua se faccio un F2 vedete che io prendo tutte queste informazioni prendo la data che è qua e prendo i filtri ne ho messi due sul manufattori uno sul categorie e uno sulla subcategorie se io ora vengo qua e ci metto il 13 ok con l'11 avevamo il 10 adesso mi aspetto a che compaia 15 ecco che è compasso 15 questa volta ha funzionato però perché ha funzionato? se andiamo qui clic destro formato celle è in testo allora capita questa cosa se andiamo qui e ci scriviamo ad esempio scusate andiamo qui e ci scriviamo ad esempio 13 0 1 2 e 5 e facciamo clic destro formato celle e mettiamo testo vedete che ancora non funziona perché nel momento in cui abbiamo scritto la data quando lo convertiamo in testo lui in testo lui vede un numero perché la data in realtà è un numero sotto quindi se andiamo a scrivere una data noi in realtà sotto stiamo scrivendo un numero quando lo convertiamo in testo lo capiamo di fatto vedete che qui è il testo e questa è la data ora che ho convertito la cella in testo se vado a scrivere 13 0 1 20 25 se non me l'ha autoconvertita me l'ha convertita ancora in automatico mi sa no ecco comunque non funziona lo stesso invece qua su funziona l'importante è che quando andate a creare questa cella di parametri ok clic destro formato cell la mettete in testo e se la mettete in data il parametro che andiamo a passare sulla formula cubo non funziona perché? perché nelle formule cubo noi dobbiamo passare delle stringhe se passiamo una data lui convertirà quel parametro di data quel valore di data con il suo testo che trova sotto quindi dobbiamo passare tutti i testi quindi tutti i parametri lo ripeto ancora devono essere in formato testo se passiamo i parametri in questo modo funzionerà anche col custom qui che cosa ho scritto ecco qui la mia formulezza la prima cosa da fare è scrivere valore cubo perché andiamo ad estrarre un valore del nostro cubo di dati apriamo la tonda e iniziamo a passare tutti i parametri il primo parametro che vado a passare è il modello il nome del modello dal quale vado ad estrarre le informazioni e le mettiamo all'interno delle virgolette perché ricordate devo passare tutte stringhe per ogni parametro tra un parametro e l'altro andiamo con il punto e il virgola classico sul secondo io metto sempre la misura quindi anche questa sempre all'interno delle virgolette con le parentesi quadre richiamo misures ok questa va proprio scritta così punto il nome della misura che voglio andare a richiamare qui rispetto all'altro se vengo qui e faccio ad esempio vendite vendite ok che di là se cambiavo la misura non funzionava se qui è orala cambio e premo invio vedete che ho cambiato il valore quindi con il custom posso veramente renderla dinamica e gestirla come meglio credo funziona tutto perché vado a dichiarare esplicitamente all'interno della funzione valore cubo come funzionano le varie cose in modo molto specifico poi cosa succede se devo andare a passare dei filtri quindi ho passato lavoro su questo modello e lavoro su questa misura questa misura me la devi filtrare perché ottengo un risultato con tutti i filtri che trovo qua sotto che sono non sono altri che i filtri parametrizzati che ho messo qua allora prima di vedere il set cubo e l'ordine non è una cosa obbligatoria ho fatto din category din set category din date anche qui vedete che ci sono le virgolette poi arrivo fin qua giù dico dalla tabella din category campo category punto aperta quadra ricordatevi sempre le quadre e qua chiudo le virgolette quindi qui ho passato questo pezzo di stringa sto passando un solo parametro ok poi faccio un po' di spazi per semplicemente per una questione visiva e faccio end perché vado a concatenare la stringa successiva però perché ho chiuso le virgolette qua perché devo passare un parametro esterno per passare il parametro esterno lì seleziono questa cella ok quindi vado sull'M10 e prendo il valore che c'è qua e devo per forza chiudere la stringola concatenare prendermi questa cosa concateno ancora apro le virgolette e chiudo la quadra perché ricordiamoci devo dare sempre aperta e chiusa parentesi quadra quindi così mi prendo il valore esterno questo se dobbiamo farlo su un singolo campo con un singolo valore filtrato ok quindi categorie subcategorie e date anche qua date ricordatevi che deve essere in formato testo tutti i nostri parametri devono essere in formato testo sulle celle altrimenti non funziona quindi questi sono molto semplici li possiamo mettere nell'ordine che più ci aggrada se questo lo sposto e lo metto sopra di una riga non cambia niente comunque lui filtrerà tutti i valori che vado ad inserire all'interno della mia funzione valore cubo se invece il campo specifico lo devo filtrare con due valori o più valori devo aprire una cosa un po' più complicata devo usare un'altra funzione delle formule cubo che si chiama set.cubo e qui apro la tonda e qui gli dico ancora guarda entra ancora nel mio modello lo devo specificare un'altra volta come primo parametro ogni formula cubo che utilizziamo ce n'è più di una dobbiamo specificare su quale modello lavorare quindi qui che cosa fa mi tirerà fuori delle informazioni attraverso le graffe in questo caso perché passo più di un parametro apro sempre le virgolette perché sono sul parametro nuovo vedete qui c'è il punto di virgola dopo il nome del modello e lì dico link category manufacturing link category manufacturing qui stesso discorso punto quadra chiudo le virgolette passo il parametro end e passo la quadra e faccio una virgola e uno spazio ok quindi quando ho passato il mio parametro quindi sono arrivato ad esempio qui ok che ho passato il mio parametro faccio una finta che è questo faccio anche una virgola e uno spazio per poter passare il parametro successivo ok concatenazione poi faccio una end e vado a capo per semplicità ripeto il nome del mio campo sempre a stringa end e prendo il secondo parametro quando ho finito di passare tutti i parametri chiudo la grafia quindi con set punto cubo e utilizzando le grafie posso filtrare quanti valori io voglio all'interno dello stesso campo questa è la soluzione per andare a creare una formula cubo avanzata e che vi da una dinamicità massima quindi possiamo andare qui possiamo andare a mettere una formula che dice se il valore è sopra 30 da darmi un risultato altrimenti in altro la formula cuba comunque rileverà sempre col valore che passiamo l'importante è che la cella sia formatata in testo ok direi che anche con questa lezione è tutto se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollizioni in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti magari lasciate un commento qua sotto per dirmi se le state già utilizzando se non l'avevate mai vista e cosa ne pensate di questa funzionalità aggiuntiva che c'è per poter andare ad estrarre dati dal cubo se invece volete sostenermi in modo molto incisivo pensate magari a stipulare un abbonamento al canale col tasto bonati che trovate sotto al canale così accederete a tantissimi servizi a tantissimi video e a tutti gli allegati che sono posti all'interno del mio canale ve lo consiglio perché vi permetterà sicuramente di fare un salto di qualità sulle conoscenze che potrete ottenere all'interno dei tool che vado a trattare e niente se volete supportarmi in altro modo in descrizione trovate altri sistemi per darmi una mano vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video presto ciao ciao